Musica Venerdì 9 agosto, buongiorno, ben ritrovati con l'informazione di Telemolise. Non si placa la polemica sulla mancata riduzione delle indennità da parte dei consiglieri regionali e in una condizione di forte disagio economico come quella attuale con le aziende in crisi, le imprese e i negozi che chiudono e le tasse regionali che aumentano, la classe politica ha perso una grande occasione per mandare al popolo un segnale di comprensione e solidarietà. Sentiamo in proposito l'opinione del nostro direttore Manuela Petescia. Esistono momenti particolari in cui il disagio sociale cresce di pari passo con l'insofferenza, l'indignazione, la protesta. Il sentimento popolare si fa ostile e si concentra su un solo aspetto, quello più vistoso ed immediatamente aggredibile, gli stipendi dei politici. In momenti simili, chi governa dovrebbe sentire come naturale il dovere di mandare al popolo un segnale netto, immediato, privo di equivoci. Stravincendo le elezioni regionali, con il suo molise di tutti, Paolo Di Laura Frattura aveva creato grandi aspettative, che tuttavia si sono scontrate con la realtà. La sanità affonda, Zuccherificio, Solagrital, Arena, ITR non trovano via d'uscita, le piccole e medie imprese scompaiono, gli esercizi commerciali chiudono, l'Italia del Nord schiaccia l'Italia del Sud e l'Europa gioca a lotto con i parametri di stabilità. Con alluvioni, grandinate e siccità sempre in agguato, all'appello manca solo una dichiarazione di guerra al Molise, con tanto di invasione territoriale. Combattenti di terra, di mare, dell'aria! Questa è la regione che Paolo Frattura si è trovato ad amministrare. Pochi vorrebbero essere al suo posto e meno di pochi saprebbero cosa fare. Ma lasciando da parte il Presidente e la sua Giunta, impegnati su così tanti fronti e in mezzo a tante difficoltà, una grande occasione per dare un segnale di buonsenso, anche minimo, i consiglieri regionali l'avevano avuta ed era la riduzione delle indennità. Telemolise non si riconosce in quel genere di populisti che di solito fa ingresso nella storia nei momenti di grave difficoltà economica e complica ulteriormente le cose con lo spettro dei patiboli e delle ghigliottine, una massa senza volto che cerca il colpevole a tutti i costi. Tribuni improvvisati che vorrebbero quantificare gli stipendi altrui al posto delle leggi, masanielli che si dedicano all'ingiuria quale occupazione alternativa al nulla. Tutti ladri, tutti corrotti, tutte prostitute, un disco incantato che a lungo andare nemmeno impressiona più. Non ci riconosciamo in questi cultori dell'agitazione fine a se stessa, eppure si è persa un'occasione unica per mandare al popolo un segnale di solidarietà. Rinunciare a una parte dello stipendio e poter dire «vedete, anche noi abbiamo fatto un sacrificio», condividendo così, anche solo simbolicamente, lo strazio di questo territorio. Al contrario, i consiglieri regionali hanno mandato un segnale in senso opposto, nel senso cioè dell'arroganza e della strafottenza, come uno schiaffone in pieno viso al popolo affamato, lo stesso popolo al quale si chiedono altri sacrifici con l'aumento delle tasse regionali. I titani della politica, un errore strategico di tale portata, non l'avrebbero commesso mai. E allora, l'attuale classe politica sarà ricordata da tutti per questa disinvoltura ai limiti dell'illusionismo, un gioco di prestigio, allegro e sofisticato per arraffare anche l'ultimo centesimo. Lo abbiamo già detto, uomini piccoli piccoli. Come piccoli piccoli sono quegli uomini che di fronte alle indagini in corso sulle spese ridicole, scandalose, qualcuna letteralmente oscena, rendicontate dai gruppi consigliari con i soldi pubblici. Di fronte alle indagini della Corte dei Conti, della Guardia di Finanza e della Procura, se la sono presa con Telemolise che ha divulgato la notizia. Lasciando arrivare a questa azienda, un giorno sì e l'altro pure, messaggi di ostilità e simpatiche minacce. Se tra le spese rendi contate figurano pranzi e cene per nulla istituzionali, discoteche, amanti di lusso, casino, gioielli, lap dance e rimborsi per attività personalissime, come risulta dalle informazioni in nostro possesso, dove peraltro si evince che le spese più folcloristiche sono da ricondurre ai consiglieri regionali di centrodestra, non importa quello che farà la Procura. È un problema etico che andrebbe affrontato chiedendo scusa ai molisani e consegnando le proprie dimissioni. O anche questa sarà un'occasione mancata. Bene, avete sentito l'editoriale del nostro direttore. Ora passiamo ad esaminare le prime pagine dei quotidiani di oggi. Marco Presutti dalla Regia ci inquadra a primo piano molise, il presidente frattura, striglia i suoi, dopo gli sfoghi di Lattanzio e di Pietro Junior su Facebook, avverte, non esistono potentati e io non sono ostaggio di nessuno. L'ex tutore dei minori restituisce le deleghe e contesta il DDL sul quinto assessore. Nel pomeriggio, riunione di maggioranza. La cronaca schianto in Messico, coppia molisana, viva per miracolo, l'una di miele da incubo, sul taxi erano saliti quattro giovani sposi, fatale l'impatto con un trentenne napoletano. In alto, Isernia, contenzioso con ferrè, sigilli ad un magazzino, ITR, dentro ci sono i capi per 5 milioni di euro. Capobasso rubata la macchinetta, cambia monete del bar Agip di Selvapiana, i ladri lasciano tracce di sangue sul pavimento. Boiano, vertenza Gamm, raggiunta l'intesa sugli arretrati. L'azienda erogherà un acconto agli operai. A Boiano, ultimo abbraccio ad Emanuele, grande commozione sui funerali. In tanti hanno voluto salutare lo sfortunato centauro. E ancora cronaca rapina alla Tercas, è la seconda in 15 giorni. Siamo a Termoli, due banditi a volto scoperto e senza armi, in rompono nella filiale di Via Dante, si fanno consegnare 15 mila euro. Lo sport Campobasso Lozzi, convocato dal sindaco, si tratta anche con la Santeliana. E a Boiano, Cesaroni è il nuovo direttore sportivo. Il quotidiano del Molise è l'una di miele e di morte in Messico. Due giovani sposi molisani feriti in un incidente in cui ha perso la vita un loro amico napoletano. Assieme ad un'altra coppia avevano noleggiato un taxi che si è scontrato con un'altra auto. Banditi alla Tercas, seconda volta in meno di 15 giorni. Ancora una rapina a Termoli. I Sernia e gli ufficiali giudiziari fanno visita all'ITR. GAM arriva all'accordo, tregua e sciopero sospeso, sbloccata la cassa integrazione e accreditati 900 euro. I Sernia torna alla ZTL, raffiora l'incubo multe nel centro storico e a Capobasso stabilite le tariffe TARES, approvato il bilancio. Zuccherificio frattura garantisce la campagna 2014. Si parte il 20 con le intese professionali. Termoli assenteisti all'ASREM e falsi ciechi, chiesto il processo per 34 persone. Lo sport rosso-blu, il comitato ha incontrato Di Bartolomeo e De Benedittis. Serie D, Termoli inamichevole, battuto dalla Bisceglie. Calcio a 5, colpo grosso. Esernia arriva il pivo Sartori. I fatti del nuovo Molise in viaggio di nozze in Messico. Ferita una coppia molissana nell'incidente ha perso la vita Vincenzo Maiello che viaggiava sullo stesso taxi. Rapina alla Tercas di Termoli. Bottino di 15 mila euro nel giro di 15 giorni. È la seconda volta che i malviventi visitano lo sportello. L'altra volta andò peggio, solo 10 mila. Il gran rifiuto della Lattanzio è la FANF Terrible di Palazzo Moffa. La regione crede ancora nello zuccherificio e nel suo futuro. ITR Bianchi mantiene la parola data. Ora problemi con Ferré. Il tempo Molise, la storia. Sposini in viaggio di nozze feriti in Messico. Vincenzo Maiello, 30 anni, campano, è morto nello schianto. La moglie è grave. I due erano a bordo di un taxi con un'altra coppia di amici in luna di miele. Andavano al delfinario. Colpo alla gioielleria Tangredi. Denunciati due componenti della banda e a Termoli, seconda rapina, la Tercas in 10 giorni. Boiano, l'azienda paga parte degli arretrati. Sospesa la protesta alla GAM. Lattanzio restituisce le deleghe a Frattura e Sprecopoli. In procura anche le spese del 2012. Proseguono gli interrogatori dei 30 indagati per la gestione allegra dei gruppi in regione. Il sannio quotidiano, la notizia che riguarda il Molise, questa rapina la Tercas, bottino di 15 mila euro. I malviventi armati di cacciavite, a volte scoperto, sono fuggiti a piedi dall'agenzia di Corso Dante. Per la seconda volta in 15 giorni, assegno un colpo alla filiale di Termoli dell'Istituto di Credito. I quotidiani nazionali. Il Corriere della Sera, Sacco Manni, riapre il caso Imu. Il ministro boccia l'abolizione totale sulla prima abitazione. Misura iniqua, ma il PDL attacca. Basta, balletti, la tassa va tolta. Fisco, ecco cosa cambierà. Il governo varia il decreto contro il femminicidio. Via da casa i compagni violenti. Più facile intervenire su stalking e cyberbullismo. Il ritorno degli yacht nei porti italiani. Prima ripresa dopo il crollo del 2012. La Repubblica Imu, Sacco Manni, Gela. Il PDL, ecco le nove soluzioni. La peggiore è abolirla. Il centrodestra insorge. Sul sito del Ministero del Tesoro, le proposte per la tassa sulla casa Draghi, svolta nell'economia già nel 2013. Femminicidio, sì al giro di vite. Via da casa gli uomini violenti. Il Consiglio dei Ministri varia il decreto. La querela diventa irrevocabile assistenza gratuita alle vittime. La stampa, il tesoro. Iniquo abolire l'Imu. Il piano di Sacco Manni e senti solo i redditi più bassi. Il PDL, tassa da eliminare. Letta e le tensioni della maggioranza. Se si va al voto col Porcellum, avremo altre larghe intese. Primarie PD, caos sulla data. Bonino, riallacciati i contatti. Cauto ottimismo per Quirico. Il nostro inviato prigioniero in Siria da quattro mesi. Intervista con il Ministro. E poi i piromani scatenati. SOS dei sindaci. Gabrielli, è una guerra impossibile. Pochi canadeir. La Sardegna brucia. Il giornale. Esposito, processato già due volte. Gli altarini del giudice. Accusato di venire retribuito per la gestione della sua scuola. Accusato di usare i messi comunali come autisti dei familiari. Accusato di scegliere i casi mediatici per spirito di protagonismo. L'invidia e le trappole. Cari nemici, non spezzerete un leader nato. Il tempo. Guerra sull'Imu. Il governo rischia. Saccomanni detta la linea e dimentica l'abolizione. Il PDL. Addio larghe intese. Prima casa. 20 giorni per decidere. Il Cipe sblocca 400 milioni statali senza aumenti. Mai più sole. Le donne perseguitate. Approvato il decreto contro il femminicidio. Avvenire. Reddito di inserimento a settembre. Il piano intervista a Giovannini. Così il governo sfida la povertà. Letta se si torna a votare col porcello. Ma ancora l'argentese. Imu Saccomanni esclude l'abolizione totale. È iniqua il PDL. Non ci sta. Il sole 24 ore. Casa spunta la tassa unica. La service tax peserà la metà dell'Imu. E i comuni potranno ridurla ancora. Le ipotesi tecniche dell'economia. Bocciata la cancellazione sulla prima abitazione. Ai sindaci le leve su tares e aliquote. Parte la corsa dei comuni all'aumento dell'IRPEF. Addizionali più alte già decise da 440 sindaci. Previsti 4 miliardi di incassi. E la BCE dice ripresa graduale. Nel 2013 boom delle importazioni cinesi. Si ferma il rallentamento di Pechino. Nel bollettino mensile Francoforte conferma tassi a livelli attuali. O più bassi ancora a lungo. Libero furbate democratiche. La superpensione di Epifani. Prima di lasciare il timone della CGL il segretario si è alzato lo stipendio. E ora percepisce 3.400 euro netti al mese. Che si aggiungono alla ricca paga da parlamentare. E tutto a nostre spese dice Libero. L'interesse della Bindi per il lavoro. Il PD gioca mentre il paese va a rotoli. E infine la gazzetta dello sport. Juve rinnovo se credi in me. Messaggio di Pirlo. Il contratto in scadenza con la società. Parleremo alla fine della stagione. Ma devo sentirmi importante. In futuro non accetterei mai di giocare solo 20 partite. Saremo al top per la Champions. A Tevez serve tempo. E poi Mercatone. Inter. Contatto. Eto. Anzi lo cederai. Nerazzurri prendono informazioni dal procuratore in sede per chiudere l'affare. Rolando. E poi Milan. Balo. El-Sharawi e ora Nyang Gol. In alto le creste. E con la gazzetta dello sport si conclude il nostro appuntamento del mattino. L'informazione torna alle 14. Grazie per averci seguito. Buona giornata. Grazie per averci seguito.